L'impresa che sta procedendo con i lavori nel complesso tra Viale Padova e Via del Boschetto ha richiesto per motivi di sicurezza e di carattere tecnico la chiusura del traffico veicolare in quest'ultima. Il periodo in cui la via rimarrà chiusa va del 6 novembre al 31 dicembre. In questo periodo da Viale Padova alla residenza Boschetto potranno passare solo le biciclette su un percorso che sarà allestito appositamente. Mentre nel tratto che parte dalla residenza del Boschetto fino a Viale Tierreno potranno transitare solo i frontisti. Qua sarà eliminata la ciclabile esistente e verrà consentito il doppio senso di circolazione. Saranno quindi eliminati gli archetti che ora delimitano la pista ciclabile ma sarà garantito in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso, assistenza e polizia in caso di situazione di emergenza. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.